Benvenuto su Scelta del prodotto. In questo video daremo un'oppiata a migliori access point. Ho stilato questa lista basandomi sulla mia ricerca e opinione personale e ho cercato di catalogarli in base, al loro prezzo, qualità, durata e altro. Se vuoi conoscere il prezzo e saperne di più su questi prodotti, puoi visitare i link nella descrizione qui sotto. Bando alle ciance, cominciamo con la lista. Cominciando la nostra lista con il numero 5, abbiamo AWM Fritz, box.l'access point AWM Fritz. Box 4060 AX Edition può essere collegato a qualsiasi modem in fibra ottica, tramite cavo o DSL attraverso la porta van. È una scelta ideale per coloro che cercano alte prestazioni e desiderano espandere in modo stabile una rete. Esistente punto questo modello supporta lo standard Wi-Fi 6, che offre una velocità di trasmissione elevata anche con molti dispositivi attivi contemporaneamente. Ciò consente di utilizzare diverse applicazioni ad alta densità di banda larga contemporaneamente, raggiungendo velocità fino a 2x2400 megabit al secondo o 1200 MBTS. La connessione è non solo sicura, ma anche semplice da configurare, più che può essere attivata premendo il pulsante di connessione situato sul fronte del dispositivo. Smartphone, notebook e TV possono essere collegati in modalità wireless, ma non solo. Numero 4. Netger W AX218-100EUS. Un'altra opzione per creare una rete privata stabile e sicura è il Netger 6 AX3600. Un access point che offre facilità di installazione ed è consigliato per punti vendita, ingressi aziendali o qualsiasi altro luogo in cui si desideri garantire massima stabilità. Questo prodotto è alimentato tramite Po ed è apprezzato per le sue elevate prestazioni, grazie alla tecnologia Mumimo che consente di supportare fino a 256 dispositivi client contemporaneamente. L'installazione, la configurazione e la gestione sono semplificate grazie alla procedura guidata che rende il processo accessibile anche a utenti non esperti. Il montaggio è rapido e può essere effettuato sia a parete che a soffitto. Netger 6 AX3600 offre anche altre caratteristiche che migliorano l'esperienza di connessione. Terzo posto c'è AWM Fritz, Repeater.AWM Fritz. Repeater 600 è un dispositivo progettato appositamente per offrire connessioni ultraveloci fino a 6000 megabit al secondo, garantendo massima copertura Wi-Fi e alte prestazioni per tutti i dispositivi connessi. Grazie al nuovo standard Wi-Fi 6, il Fritz. Repeater 600 tiene conto dei numerosi dispositivi collegati alla rete wireless, come smartphone, tablet, PC, TV 4K e lampade intelligenti, consentendo di utilizzarli contemporaneamente senza alcuna perdita di segnale punto con la selezione automatica della banda e l'intelligente utilizzo parallelo delle tre bande, il Fritz. Repeater 6000 è in grado di scegliere il percorso più efficiente verso il router, garantendo velocità di trasmissione dati elevate. Questo access point è compatibile con qualsiasi router wireless che supporta gli standard 800 2.11 AX, barra acquistare barra n barra g barra b barra A e offre massima sicurezza con WPA3. Numero 2. Zixel Cloud Wi-Fi 6. Questo access point offre il supporto non solo per la frequenza 2.4 GHz, ma anche per quella da 5 GHz, sfruttando così i vantaggi dello standard Wi-Fi 6. Questo significa che può garantire velocità più elevate anche in caso di traffico intenso o in zone ad alta densità, estendendo la portata della rete wireless e offrendo maggiore capacità per le applicazioni IoT e altro ancora. Punto è un dispositivo consigliato anche per le piccole imprese che desiderano aggiornarsi old 11 AX, grazie alla sua facile configurazione. Un aspetto distintivo di Zixel Cloud rispetto ad altri prodotti sul mercato è il suo design sottile. Inoltre, è dotato di un doppio pannello termico, anteriore e posteriore, appositamente progettato per prevenire problemi di surriscaldamento e garantire la massima stabilità. Ciò consente di installarlo in diverse posizioni, come soffitto, parete o scrivania. Infine, il numero 1 della nostra lista. TP-Link Ripetitore. Il TP-Link R330 Mesh è un dispositivo che offre una soluzione per migliorare la copertura Wi-Fi in una casa o un ufficio. Utilizzando la tecnologia Mesh, il R330 si collega al router principale TP-Link per creare una rete unificata e stabile. Questo permette di eliminare le zone d'ombre e di espandere il segnale Wi-Fi in modo affidabile.il. Dispositivo supporta la connessione wireless dual-band, offrendo velocità fino a 300 Mbps sulla banda 2.4 GHz e fino a 800.67 Mbps sulla banda 5 GHz. Questo consente di ottenere una connessione veloce e stabile, ideale per attività online come lo streaming di video, il gaming o la navigazione web. Il TP-Link R330 Mesh è progettato per essere facile da installare. Basta premere il pulsante WPS sul dispositivo per sincronizzarlo con il router principale e riprodurre automaticamente le impostazioni di criptografia. Sempre, troverai tutti i link di questi prodotti nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato questo video. Se l'hai trovato utile, allora metti mi piace e condividilo. Inoltre non dimenticarti di iscriverti al nostro canale per vedere altri fantastici video come questo.